Ciao, io sono Michele, benvenuto in questo video tutorial per la programmazione web. In questo video andiamo a creare una semplice pagina web livello principianti con le tecnologie HTML, CSS e JavaScript. Non sarà un super pippone teorico su queste tecnologie, ma è un video molto pratico dove se mi segui passo passo con un po' di fiducia e arrivando in fondo avrai una pagina web perfettamente funzionante con un po' di tutte queste tecnologie. Durante il tutorial io spiegherò a livello macro quello che andiamo a fare, quali sono i nostri obiettivi e perché stiamo facendo le cose, introducendo i concetti principali. I prerequisiti per seguire il tutorial, Visual Studio Code e un qualunque sistema operativo perché possiamo fare questo tutorial sia con Windows sia con Mac che con Linux. Quindi se non hai già Visual Studio Code, googla Visual Studio Code Download, scaricalo per il tuo sistema operativo, metti in pausa il video e poi ci rivediamo. Pronti per cominciare? Ok, qui ho appena aperto Visual Studio Code e questa è la pagina iniziale. Se tu l'hai proprio appena appena installato, la pagina di avvio potrebbe essere leggermente diversa e dovrebbe essere questa qui, andando su Help Get Started dovrei recuperarla. Ecco, è proprio questa è la pagina inizio. Ti consiglio di installarlo in inglese perché spesso la documentazione in inglese è più ricca, completa e un po' più precisa. Quindi per questo anche io ce l'ho in inglese. L'aggiornamento lo installerò in un altro momento. Apriamo una cartella dedicata al nostro piccolo progetto di questo semplice sito web che andiamo a fare. Quindi faccio Open Folder, vado nella mia cartella che ho già predisposto, Tutorial Web e faccio Select Folder. Se devi farti una cartella metti in pausa il video e poi puoi riprendere. Eccoci qua, quindi l'ambiente di sviluppo pulito è questo qui. Sulla destra io ho tutti gli strumenti sulla destra, ho fatto una leggera personalizzazione, ci sono delle configurazioni perché mi trovo così, ma mi trovo meglio così. Ma ora della fine non cambia nulla. Quindi quello che andiamo a vedere per costruire questo sito web sono dei concetti di HTML, CSS e JavaScript. Immancabile. Facciamo un ripasso veloce proprio alle basi, le basi per capire che cosa sono questi oggetti, questi strumenti che nel mondo web sono proprio le colonne portanti. HTML sta per Hyper Text Markup Language, ok, e significa, ed è un linguaggio di markup, non è un vero e proprio linguaggio di, non è un linguaggio di programmazione, ma è un linguaggio che serve per definire la struttura di un documento, in questo caso la struttura di una pagina web. E poi ne vedremo un pochino la sintassi. Appunto ne definisce la struttura di una pagina, un po' come il progetto di una casa. A fianco dell'HTML c'è sempre, troviamo sempre, il CSS, cioè sono sempre dei file di testo. CSS sta per Common Style Sheet, significa foglie di stile comuni. Poi vedremo, entrando, quando scriveremo capiremo un po' di più, però sostanzialmente sono dei documenti, dei file di testo che descrivono la parte estetica della nostra pagina web, quindi colori, dimensione dei font, margini, spaziature, proprietà di tabelle e tante altre cose. Sono molto complessi e il potenziale è veramente elevato. JavaScript è il linguaggio di programmazione, linguaggio di programmazione del web. In questo cosa si intende? Che tutta la parte interattiva delle pagine web è realizzata con JavaScript. I siti web, le pagine web sono in HTML, vuol dire che il... e sono statiche. Cioè quando il nostro browser, sia SEO, Edge, Firefox, quello che... Chrome, quello che preferiamo, chiede una pagina web a un server, che ne so, www.ferrari.com, ci viene dato un documento HTML e il suo CSS per l'estetica. Questi documenti sono statici e la possibilità di interazione con l'HTML puro sono estremamente limitate, se non qualche pulsante per dei form e così via. Se vogliamo, per rendere le pagine HTML dinamiche, interattive e accattivanti, c'è appunto il JavaScript che permette di fare tantissime cose una volta che il sito web è caricato sul nostro browser. Noi lo utilizzeremo per creare un pulsante che permette di cambiare tema chiaro e tema scuro della nostra pagina web, molto semplice, che andiamo a realizzare. Ok, pulisco qui, chiudo, non salvo e cominciamo. Quindi, in questo, l'obiettivo di questo mini corso è quello di imparare, creare una piccola pagina web in HTML, applicarci uno stile con il CSS, creare un tema chiaro e un tema scuro e aggiungere il supporto di cambio tema tra uno e l'altro utilizzando il JavaScript. I prerequisiti li abbiamo visti prima, Microsoft Visual Studio Code, un sistema operativo va benissimo, Mac, Windows o Linux, si può fare tranquillamente in tutte e tre le piattaforme. Abbiamo già aperto Visual Studio Code, ci siamo creati una cartellina dove lavorare, a questo punto che cosa facciamo? Creiamo i nostri tre file, facciamo clic destro qui, nuovo file, creiamo app.js che sarà, che conterrà il nostro codice JavaScript e faremo alla fine. Poi facciamo main.css, uno dei nomi standard per i fogli di stile e poi infine facciamo index.html, index, nome storico dove diciamo sostanzialmente è la prima pagina di cui un sito web si compone. Nome storico. Va bene. A questo punto consiglio di installare qui su Visual Studio Code l'estensione Open in Browser. Io ce l'ho già ma faccio vedere. Open in Browser, facciamo qui c'è install, al posto di un install e permette di aprire rapidamente con un clic con Alt B, permette di aprire la pagina HTML che stiamo sviluppando nel nostro browser preferito risparmiandoci un po' di clic, insomma in modo più facile per fare un'anteprima di quello che stiamo facendo. Installale e poi metti in pausa il video e poi puoi riprendere. Ok, andiamo avanti. Adesso lavoriamo, ritorno qui, lavoriamo sul nostro HTML, quindi partiamo da definire la struttura della nostra pagina web. Visual Studio Code ci viene in aiuto con tantissimi snippet, quindi pezzi di codice già pronti. noi dovremo scriverne solo l'inizio e lui comporrà tutto il resto. Questo serve per agevolare la scrittura di parti ripetitive. In questo caso, quello dove ci agevola è proprio l'impostazione standard, base di una pagina HTML. Facciamo, scriviamo HTML 2.5. HTML è un linguaggio nato più di vent'anni fa, si è evoluto. Siamo alla versione 5, quindi scrivendo HTML 5 e poi facciamo invio, Visual Studio Code ci predispone già quella che è la struttura base di un documento HTML, dove abbiamo appunto questa dicitura, questo tag, quindi tutto quello che inizia con parentesi uncinata e poi si chiude con parentesi uncinata così è chiamato tag. Quindi abbiamo il tag doctype HTML, che è proprio caratteristico, che ci dice, che ci informa che stiamo lavorando con HTML specifica 5. La lingua predefinita del nostro sito web specifica. Poi abbiamo il tag HTML, quindi effettivamente qui comincia la struttura del nostro documento. In questo caso abbiamo anche un attributo che ci dice che questa pagina di default è in inglese. Lasciamolo lì. Poi abbiamo l'intestazione, la cosiddetta parte di header, dove ci sono tutta una serie di tag, di informazioni aggiuntive che descrivono le caratteristiche della nostra pagina. Non entriamo nei dettagli di tutti quanti, ma semplicemente andiamo ad analizzare la più facile e la cambiamo subito il titolo. Quindi proprio il titolo che compare in alto nella barra del nostro browser lo cambiamo in, per esempio, tutorial, pagina web, semplice. Alcuni tag HTML possono contenere altri tag e si chiudono così. Quindi questa è l'apertura e questa è la chiusura con parentesi uncinata e poi la barra. Poi abbiamo il corpo vero e proprio, dove risiederà tutto il nostro contenuto e infine il tag di chiusura del documento, dove diciamo ok, qui finisce la nostra pagina web. Non c'è altro per il browser da leggere. All'interno del body che cosa facciamo? All'interno del body andiamo a fare un elenco puntato delle cose che andiamo ad implementare in questo tutorial. Quindi facciamo così, facciamo un... apriamo un H1 che è un tag che indica un header, quindi diciamo un titolo. Questi tag vanno dall'H1 all'H6, dove H1 è il testo più grande, H6 è più piccolino. Andiamo a scrivere lista di cose da fare. Poi andiamo sotto e apriamo una lista, un elenco puntato, che si fa con il tag ul, unordered list, lista non ordinata, in questa maniera. E poi i singoli elementi della lista si mettono li list item. Perfetto, che cosa facciamo? Dobbiamo fare un aggiungere foglio di stile ctrl c, ctrl v, c copia l'intera riga sviluppare tema chiaro e tema scuro infine, ultimo elemento sviluppare aggiungere pulsante di cambio tra tema chiaro e tema scuro ok, qui un punto anche qua facciamo alt b e l'estinzione che abbiamo installato poco fa ci apre il nostro browser predefinito con la pagina web che abbiamo appena fatto vedete il titolo che è quello che corrisponde a title qui, tutorial pagina web semplice la lista di cose da fare scritto bello bene facciamo la prima cosa aggiungiamo un foglio di stile allora a livello di file creato il foglio di stile ce l'abbiamo già è vuoto andiamo a collegarle questa pagina html ad abbinarla al suo foglio di stile main.css per fare questo dobbiamo scrivere in tag apposito nell'header del nostro documento l'header è una sezione del foglio html che contiene informazioni diciamo aggiuntive che non vengono renderizzate quindi trasformate in oggetti grafici o testo che noi vediamo nel browser ma restano dietro le quinte e servono per gli scopi più svariati per esempio impostare il titolo di una pagina è l'unico che si vede ok, però serve appunto per aggiungere informazioni aggiuntive o per fare collegamenti come in questo caso con o foglio o scripting per il javascript o per collegare foglie di stile allora qui allora qui andiamo a scrivere che facciamo un link che ha una relazione di tipo style sheet e questo con nell'attributo href andiamo a dire dove si trova e diciamo che si trova a livello gerarchico si trova allo stesso livello di index quindi ci basterà scrivere main.css e chiudo bene andiamo a fare una prova ora vogliamo assicurarci che la cosa funzioni che il collegamento sia stato fatto andiamo a cambiare il font predefinito in questa pagina quindi perché abbiamo visto che di default viene renderizzato qui in questo caso un times new roman probabilmente su sto computer qualcosa di diverso oppure times new roman in base dell'impostazione del browser andiamo qui su main.css e io voglio dire che per tutto il body ok quello che è il font family è per esempio mi piace vertana ok salvo ritorno sulla mia pagina index.tml faccio alt b eccolo qua abbiamo visto che il font cambia ok abbiamo visto che il font cambia quindi il collegamento tra html e css abbiamo visto che è avvenuto correttamente a questo punto dovremo lavorare per fare il tema chiaro per definire il tema chiaro apriamo il foglio di stile e creiamo quella che si chiama una classe una classe all'interno dei css è un nome per creare il nostro tema chiaro creiamo quella che è una classe all'interno del nostro foglio css una classe è un nome che noi diamo a una serie di attributi che vogliamo che vengano applicati tutti insieme agli oggetti che decidono di appartenere questa classe per capire meglio muoviamoci subito quindi una classe si dichiara partiamo subito per capire meglio una classe inizia con il punto e poi possiamo dargli il nome che vogliamo per esempio light theme tema chiaro poi come abbiamo fatto per il body invece qui abbiamo detto che applichiamo questo stile del font al tutto quello che è dentro il selettore body andiamo ad applicare tutte le caratteristiche di stile che vogliamo a quegli tag html che si iscriveranno che diranno di appartenere alla classe light theme tema chiaro e poi vediamo come si fa molto facilmente molto banalmente andiamo a definire per un tema chiaro quello che facciamo un background e lo prendiamo verde lo dichiariamo in esadecimale dove le prime due cifre stanno per quanto red rosso vogliamo green verde blu quindi io zero tutto verde ecco poi visual studio code ci aiuta ci renderizza questo quadrattino verde per capire che colore è questo sigla esadecimale e poi andiamo sul for e poi andiamo sul colore del testo color lo facciamo nero quindi zero 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 così adesso andiamo a dire al nostro elemento body quindi tutto ciò che sta all'interno del tag body editerà le caratteristiche che noi vogliamo perché gli diciamo ehi tu body sei di classe light team non serve il punto quindi vediamo un attimo cosa abbiamo fatto stiamo dicendo che il body di questo documento html appartiene a una classe una classe diciamo è un insieme di attributi che viaggiano che sono raggruppati tutti insieme qui abbiamo dato un nome così li possiamo riutilizzare tutti insieme quindi light team ma light team che cos'è ce l'abbiamo qui light team significa che tutto ciò che sta all'interno del body avrà uno sfondo verde e un testo nero andiamo a vedere se è vero premo alt b e così è abbiamo lo sfondo verde fluorescente e il testo nero è chiaro è chiaramente un tema chiaro proseguiamo e andiamo a fare un tema scuro andiamo a fare quindi quello che è punto dark team faccio un po' di copia e incolla per andare meglio dove vado poi ad invertire ecco adesso qui vado a sostituire e dico dark team facendo sempre un aggiornamento del browser questo è il mio tema scuro per andare più nel dettaglio possiamo vedere con f12 strumenti da sviluppatore che il nostro tag body ha applicato questo stile dark team che lo prende dal nostro foglio di stile quindi dagli strumenti di sviluppatore abbiamo conferma di quello che abbiamo appena fatto e lo sta leggendo dal file main.css riga 11 a questo punto dobbiamo aggiungere un pulsante di cambio tra tema chiaro e tema scuro e dobbiamo cominciare a lavorare con il nostro javascript prima di procedere prima di procedere però al lavoro vero e proprio sul pulsante andiamo a ristrutturare un attimo il nostro file css per renderlo più manutenibile che significa che ci sarà più facile nel futuro fare eventuali modifiche senza impazzire ne aggervoliamo la manutenzione ad esempio se noi qui volessimo cambiare la tonalità di verde e passare che ne so ad un ff ad un fe che adesso la differenza è poca però possiamo dire che ne so un f0 magari è diverso anche qui è comunque poco vabbè facciamo tipo così ecco a questo verdino chiaro dovremo cambiare il nostro valore esadecimale in due punti potete benissimo immaginare come in un progetto più complesso in un sito reale dove abbiamo continuando con questo approccio con dove questi valori esadecimali sono sparsi un po' per un documento molto lungo sarebbe molto difficile fare una manutenzione corretta e assicurarsi che magari la nuova tonalità di verde o il nuovo colore sia uguale da tutte le parti quindi togliamoci di mezzo questo problema andando a definire quelli che sono dei valori di riferimento dandogli dei nomi quindi utilizzando le variabili del CSS andiamo a definirle a livello di radice del documento e lo facciamo in questo modo scriviamo root il che significa che andiamo a dichiararle a livello di tag radice del documento in questo caso quindi è html proprio il tag html e andiamo a dire che voglio dichiarare una variabile che mi rappresenta il green che è appunto il verde che per me in questo website in queste pagine che stiamo facendo è ff00 poi voglio ovviamente può essere utile il bianco e quindi fffff il massimo per tutti i tre colori e poi andiamo a fare il black che è ovviamente 0000 a questo punto posso andare qui e togliermi di mezzo questi valori fissi e fare riferimento a quelli che sono in riga 456 qui vado ad usare una sintassi di questo tipo var e ci metto meno meno green errore mio così var black mi faccio aiutare utilizzando tab do le conferme qui faccio la stessa cosa facendo dei copia in colla e al posto gli inverto come ho fatto prima andiamo a vedere che tutto questo rimescolamento di carte in realtà per fare più ordine qui tiro super bene non abbiamo rotto qualcosa quindi apri di nuovo alt B c'è il tema scuro siamo su dark team corretto torniamo con light alt B ed è di nuovo perfettamente come prima ora possiamo passare alla parte interattiva quindi la creazione del nostro pulsante e la gestione dell'evento click con il javascript javascript o ecmascript è appunto il linguaggio del web e ci permette di fare tantissime cose quando succedono gli eventi più disparati ad esempio al caricamento della pagina quando l'utente interagisce con un pulsante quando il mouse passa sopra qualcosa possiamo fare veramente molte cose quindi cambiare il contenuto della pagina senza dover ricaricare completamente il sito web e veramente il javascript è quello che permette la magia è il collante del web andiamo quindi a dichiarare all'interno del nostro documento HTML la nostra intenzione dobbiamo andare a dire al browser ehi ciao browser sai che c'è abbiamo fatto uno script javascript e vogliamo che tu lo colleghi a questo documento HTML perché ci sono tante cosucce interattive che io ho programmato e che vorrei che i miei utenti utilizzassero per fare questo genere di dichiarazione apriamo un tag con scritto script gli andiamo a dire la sorgente e gli diciamo che è il nostro app.js e vado a chiudere così possiamo dichiarare del javascript anche in linea cioè affogato per così dire all'interno del documento HTML ma non è mai una bella pratica non è mai una buona idea se non per fare un piccolo esperimento o apprendere qualche concetto però in genere l'HTML fa la struttura e poi ci colleghiamo ad altri file di risorse possono essere appunto il CSS o il javascript esternamente in maniera da tenere le cose ordinate e pulite e ognuno fa il proprio compito l'HTML è la struttura il file CSS l'estetica per riassumere e il file javascript il codice andiamo a mettere anche un avviso per gli utenti anche se sono pochissimi magari che hanno il javascript disabilitato e gli diciamo per usare tutte le funzionalità di questo sito devi avere javascript attivo in questo modo nei browser dove javascript è disabilitato comparirà questa scritta di avviso agli utenti andiamo nel file prima di andare nel file app.js dobbiamo crearlo questo pulsante e ci mettiamo qua utilizziamo il tag HTML button che ci permette di creare un pulsante gli diciamo class button e il test dentro ci mettiamo dark o meglio dai facciamo scuro quindi siamo attualmente con la pagina HTML in modalità chiara abbiamo il light theme e mettiamo a disposizione un pulsante con scritto scuro che ovviamente ci fa capire che possiamo cambiare il tema da chiaro a scuro abbiamo già detto che questo pulsante appartiene alla classe CSS button che non abbiamo ancora dichiarato quindi al momento non fa nulla ma stiamo per dichiarare qui perché gli vogliamo dare un aspetto un po' personalizzato quindi andiamo qui facciamo punto button apriamo chiudiamo le graffe andiamo a vedere un attimo come si renderizza la pagina eccolo qui e qui abbiamo il pulsante lo vogliamo un attimo appunto personalizzare fare più carino quindi torniamo qui ok andiamo tipo a dire altezza 50 pixel larghezza 50 pixel e lo facciamo un po' tondeggiante border radius al 50% salviamo il file con ctrl s torno qui alt b eccolo qua abbiamo il nostro pulsante bello tondo così abbiamo visto un po' cosa si può fare con il CSS tornando su visual studio code adesso possiamo finalmente fare un po' di scripting ok qui andiamo a dire quello che noi vogliamo fare il nostro obiettivo è quello di agganciarci all'evento pulsante premuto per andare dinamicamente a cambiare la classe del body quindi qui noi con la pagina web funzionante quello che dovremmo fare con il javascript è andare a sostituire il testo qui dentro invece che avere scritto light team ci metteremo dark team e viceversa alla pressione del pulsante quello che dobbiamo fare quindi è con il javascript andare a identificare quella parte di pagina web che ci rappresenta il pulsante perché al suo evento click vogliamo fare questo scambio di classe CSS per cambiare tema chiaro e tema scuro quindi non spiego tutto tutto dello javascript ok prendiamo un po' per buono prendi un po' per buono quello che sto scrivendo e cercherò di spiegare senza entrare nel super dettaglio che ci potrebbe fare perdere e parlare di tutt'altro e non arriviamo in fondo al nostro esercizio quindi switcher creo una variabile la chiamo in realtà una costante però va bene un puntatore diciamo al mio oggetto pulsante lo chiamo switcher e gli dico sai che c'è qui voglio andare nel document punto vado a prendere vado a fare a trovare nel documento con il metodo query selector la classe button qui vado a prendermi quell'oggetto all'interno del documento che ha la classe button noi andiamo a vedere per forza di cose in questo qui è lui e abbiamo il button tra le mani adesso andiamo ad aggiungere un ascoltatore all'evento click un listener cioè andiamo ad aggiungere delle righe di codice che si attiveranno quando qualcuno farà click su quel pulsante switcher punto add event listener a quale evento al click noi cosa facciamo andiamo ad eseguire una funzione c'è un insieme di righe di codice che fanno cosa vanno a scambiare tema chiaro con schema scuro e facciamo così document punto class punto body punto class list punto toggle toggle no ho detto toggle ce la farò ok vado a dire light team faccio la stessa cosa contro 5 contro V per duplicare la riga dark team arrivati a questo punto quindi abbiamo che la riga 5 e la riga 6 ci servono per scambiare tema chiare con tema scuro poi entriamo nei dettagli e vediamo come funzionano però andiamo a provare e io ho questo pulsante che mi scambia ok allora non è bellissimo nel senso che ok perfetto funziona però qui ci rimane scritto sempre scuro dobbiamo fare che ci venga anche la scritta chiaro quando siamo nel tema scuro e viceversa quindi torniamo qui torniamo nel nostro file javascript e scriviamo const class name vi metto questa variabile il nome della classe attiva in questo momento quindi document.body.class name e poi faccio if class name uguale light team quindi se ho appena applicato il tema chiaro faccio me stesso quindi il pulsante text content il contenuto testuale lo cambio in ci scrivo scuro altrimenti copio incollo vabbè ci sarà scritto chiaro no? a questo punto salviamo siamo pronti per provare ritorno su index alt b per aprire il browser siamo con un tema chiaro qui c'è scritto scuro è giusto premo qui compare la lista la scritta chiaro e il tema diventa quello scuro vorrei entrare nei dettagli un attimo entriamo con F12 negli strumenti da sviluppatore che vi voglio far vedere passo passo come funziona il giochetto di quelle due istruzioni di codice quel famoso toggle vedere come come va vado nella sezione sources una volta che sono nella sezione sources faccio open file ctrl p e apro l'app .js quindi mi ritrovo all'interno degli strumenti da sviluppatore esattamente le cose che vedevo dentro viso studio code nel mio ambiente di sviluppo voglio mettere qui un break point c'è un punto di interruzione il mio clicco semplicemente qui in parte al numero di riga il mio codice si bloccherà quando sarà il momento di eseguire questa riga qui il codice si ferma e attenderà il nostro via per andare avanti e faremo quello che si chiama un debug passo passo ci andremo a vedere passo passo che cosa succede quando viene eseguita ogni singola riga di codice perché così vediamo come funziona questo trucchetto del toggle per cambiare da un tema a un altro quindi io premo il pulsante per scatenare diciamo queste righe di codice dalla 5 in poi e vedremo che si ferma qui in 5 quindi io premo vedete questa riga la riga 5 si è evidenziata di verde si dice anche che è il program counter cioè effettivamente dove il programma è arrivato nel senso che la riga di codice prossima che sarà eseguita è questa ripeto la 5 non è ancora stata eseguita ma nel momento in cui io premerò il pulsantino qui F10 step over per fare eseguire l'istruzione verrà eseguita la riga 5 la 5 non è ancora stata eseguita andiamo a vedere qui prima di eseguire che c'è scritto dark team cosa faccio? ecco allora siamo qui nella parte sources faccio partire vado torniamo a vedere cosa è successo adesso qui ci sono entrambe dark team e light team per questo istante che intercorre nell'esecuzione delle righe 5 e 6 c'è una doppia classe ma questa cosa avviene velocissimamente non se ne accorge se non appunto andando in mettendo i breakpoint fermando il codice così l'istruzione toggle che cosa fa? mette l'attributo che noi specifichiamo in questo caso light team nel caso non sia presente o lo toglie nel caso sia presente quindi ci permette di fare come un interruttore metto uno switcher proprio metto e tolgo un toggle metto e tolgo metto e tolgo vado avanti quindi c'era la scritta dark team adesso mi aspetto di qua di non trovarla più e c'è infatti solo light andando avanti vado anche a cambiare faccio correre fino in fondo con il play e abbiamo la scritta anche adeguata lo rifacciamo un attimo io premo ok quindi adesso abbiamo light team ripremo eseguendo l'istruzione toggle qui la scritta light team mi verrà tolta ok perché c'era e quindi il toggle lo toglie e facendo l'istruzione successiva la 6 l'attributo dark team non essendoci viene invece inserito eccolo qui la magia del toggle di nuovo poi c'è questo if dove andiamo a capire se scrivere schiaro o scuro ed ecco che viene cambiato al volo fantastico ce l'abbiamo fatta grazie per essere stato con me in questa sessione di coding e fate un applauso per essere arrivato in fondo se il tutorial ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti al canale così resterai sempre aggiornato su tutti i tutorial e i video che farò in futuro e iscriviti al canale